Benvenuti in Cronograph Suisse. Cronograph Suisse è un marchio svizzero di orologi di lusso fondato nel 2010 a Neuchâtel, in Svizzera, dagli appassionati di orologeria Jean-François Rouchonnet e Dominique Renaud. L'azienda si è guadagnata una reputazione di prestigio grazie alla produzione di orologi di altissima qualità, che uniscono tradizione e innovazione. Cronograph Suisse utilizza solo i migliori materiali e movimenti svizzeri, come il movimento automatico ETA o il movimento meccanico a carica manuale STP, per garantire la precisione e l'affidabilità dei suoi orologi. La scelta dei materiali, tra cui acciaio inossidabile, titanio e vetro zaffiro, garantisce anche una durata maggiore e una resistenza incredibile dei suoi segnatempo. La gamma di stili di orologi offerta da Cronograph Suisse è ampia, e comprende orologi da polso con funzionalità avanzate, come orologi con cronografo, orologi subacquei e orologi da pilota. Ogni orologio è realizzato con grande attenzione ai dettagli e con un'attenzione particolare alla finitura. Questo garantisce che ogni pezzo sia unico e di altissima qualità. Il design elegante e sofisticato degli orologi Cronograph Suisse è stato creato per soddisfare i gusti di tutti i clienti. Il marchio svizzero di orologi Cronograph Suisse è un'ottima scelta per chi cerca un orologio di alta qualità con un design elegante e moderno. Che tu stia cercando un orologio da indossare nella quotidianità o un orologio da collezione, troverai sicuramente il modello perfetto per te nella vasta gamma di stili offerti dal marchio.